Grave incidente nel pomeriggio di lunedì 31 ottobre poco prima delle 15 in strada Foglizzo-Montalenghe a scontrarsi una moto Yamaha e una Renault Scenic. L'impatto è stato alquanto violento tanto che la vettura è finita fuoristrada nel fosso e la moto è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di San Giorgio Canavese, l'elisoccorso 218 e i carabinieri di San Giorgio. Inutili tentativi di reanimare il centauro, lievemente feriti e sotto shock gli occupanti della vettura. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico vericolare per permettere i soccorsi. La dinamica del sinistro è al servizio dei carabinieri. Grazie. 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 Grazie.